Ciao, parliamo dell'Oni, il mio fantasma preferito, sì perché è il fantasma più attivo in assoluto in fasmofobia, fa interazioni costantemente, apparizioni e quant'altro, ma attenzione, i suoi eventi paranormali abbiamo imparato nel tempo che possono essere soltanto apparizioni fisiche, non può alitare l'Oni, incredibile, ma se ci fate caso è così. E più di frequente le sue apparizioni sono a figura intera, quindi vedete proprio il modello del fantasma invece che vedere la forma acquatica, la chiamano così, piuttosto che la forma di ombra, quella tutta scura, attenzione, può fare anche questi tipi di apparizioni, ma più frequentemente farà quelle a forma intera. Che altro c'è da dire? Che l'Oni attacca come molti altri fantasmi sotto il 50% di sanità media di squadra. Questo è tutto, io vi do appuntamento nei commenti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!